Sindaco, sopra luogo oggi a Barcola con i tecnici delle comune in vista della bella stagione. Sì, soliti disastri, gabineti rotti, gabineti intasati, insomma io chiedo un po' anche a questi ragazzi di non fare tutti questi danni, insomma cerchiamo, questo è un bene di tutti, cerchiamo di mantenerlo, purtroppo non è così, adesso mettiamo a posto, saremo pronti per il 10-15 maggio perché mettiamo le docce, ce le portano via, insomma basta, basta con questo tipo di atteggiamento, cerchiamo di essere consapevoli che questo è un bene di tutti e non fare questi danni continui alle nostre strutture. Un invito a tutti, non facciamo tanto vandalismo che non serva niente, ci fa solo spendere soldi dei cittadini che poi sono i vostri soldi, anche di questi ragazzi che fanno questi danni. Grazie a tutti.